Nel campo delle ematologie abbiamo visto qui a Lasco il fiorire di alcune importante ricerche cliniche che si stanno traducendo probabilmente in nuovi trattamenti terapeutici. Abbiamo portato come contributo del Gmema sicuramente il WFLY che è la terapia che integra il Veneto nella terapia standard delle leucemie acute ad alto rischio, ma abbiamo visto anche l'emergere delle prime relazioni sui menini inibitor dei farmaci che stanno sconvolgendo, come qualche volta fa l'ematologia con questi nuovi farmaci, completamente una patologia inguaribile e non eradicabile, mentre invece i menini inibitor si stanno dimostrando come dei farmaci che stanno dando una grandissima sindrome differenziativa. Noi conosciamo che quando c'è la sindrome differenziativa c'è la cura, c'è l'eradicazione e c'è quindi la speranza di poter estendere questi farmaci immediatamente a una popolazione sempre più vasta al di fuori degli studi sperimentali clinici. In Italia stiamo facendo un network proprio per identificare questi malati, avere questo marcatore e poter dare una speranza di cura veramente importante alla maggior parte dei nostri malati che hanno queste alterazioni. La leucemia meloide acuta ha dei momenti di spike in cui prima si ferma, poi improvvisamente parte e cura un piccolo gruppo di pazienti e dà un beneficio diciamo importante alla scienza in qualche modo della cura generale nel campo oncologico e oncomatologico. Noi siamo di fronte a questo evento secondo me e siamo fiduciosi che questo possa essere veramente un'altra piccola alba di speranza per tutti i nostri malati.